Negroponte parla di era digitale per indicare quello che è il nuovo internet. Ora noi non sappiamo se la digitalizzazione davvero avrà una consistenza storica pari a quella per esempio della scoperta del libro di Gutenberg oppure pari alla scoperta dell'America. Certamente si tratta di un passaggio significativo ed epocare. Lo scenario deve essere valutato soprattutto sotto un profilo economico. Personalmente ritengo che la digitalizzazione sia uno strumento nel senso che la digitalizzazione è qualcosa che può accompagnare la vita delle persone e l'implementazione dello sviluppo economico ma ovviamente non può essere qualcosa di svincolato, di esistente a sé stante. Digitalizzazione significa anche supportare la old economy. Il tema di fondo che dobbiamo porci è soprattutto riguardo a un paese come l'Italia dove le aree di digital divide rimangono aree piuttosto persistenti e consistenti, soprattutto per esempio nell'applicazione degli government, cioè degli strumenti digitali all'interno della pubblica amministrazione. Questa è anche una sfida a cui il comparto pubblico è chiamato.